Dai paradisi fiscali all'immigrazione, dalla prima retrospettiva europea del grande maestro Larry Tawel all'archeologia futuristica dell'emergente Di Sung Lee. Un programma intenso di eventi e di emozioni, quello della sesta edizione di Cortona On The Move, fotografia in viaggio. Viviamo in una fase molto difficile e il festival, essendo un evento culturale che racconta il contemporaneo, non fa altro che portare la luce a quelle che sono le realtà che ci circondano. Ecco, i luoghi dove ovviamente si snoda il festival e il modo di raccontare la fotografia? Nel DNA di Cortona On The Move c'è da sempre l'obiettivo di riaprire spazi che la città di Cortona con il tempo ha perso. Uno è il Vetti Ospedale, un altro è la Fortezza del Girifalco e il nostro obiettivo è quello di utilizzare la fotografia contemporanea per ridare vita a questi spazi. Il cortocircuito all'inizio veniva fatto per motivi di budget, adesso ci siamo accorti che invece è uno dei valori aggiunti del festival. Il Vetti Ospedale Il Vetti Ospedale